buona sera a tutti sono luigio naracu se preferite bentornati finalmente su drone design battle versione jump finalmente riesco di nuovo a registrare questo video lo vedrete ovviamente quando è già uscito il dual perché l'ho registrato ieri sera tardi è un periodo tostissimo tra lavoro e altre cose quindi scusate se vi ho fatto attendere tanto cercherò di recuperare perlomeno le due lr che ho saltato quindi l'esa di bojack la nuova lr leggendari e poi cercherò andare avanti con poi quando riesco a recuperare il resto delle cose oggi affrontiamo l'esa di bojack armi lr un esa mid come poche cose ma andiamo con ordine statistiche naturalmente uguali al presa stats extreme int 4 chi e 120 per cento super int 3 chi e 90 per cento passiva tacca di 150 per cento poi abbiamo in base agli hp un aumento fino al 100 per cento d'attacco e 100 per cento di difesa più hp avete più aumenta l'attacco meno hp avete più aumenta la difesa questo è probabilmente il primo vero difetto del pg nel senso che molto semplicemente avere un aumento degli hp al diminuire della difesa cioè avere un aumento della difesa al diminuire di hp non è mai la cosa migliore sinceramente perché vuol dire che per arrivare ottimo difensivi dovete avere pochi hp ma se avete pochi hp bastano meno danni a morire diventa un circolo vizioso abbiamo poi chi più 1 attacco e difesa più 10 per cento per ogni extreme nel team quindi possiamo arrivare a cinque chi e sta 50 per cento cambia le orb tech e rainbow se avete un altro space traveling warrior nel stesso turno questa è ottima e 50 per cento tacco e difesa aggiuntiva se avete 5 o più orb rainbow ragazzi aumentiamo un aumento della difesa normale al lancio della special e otteniamo un pg che oddio si è migliorato ma no non è migliorato abbastanza sinceramente non è migliorato abbastanza a mio avviso prendiamo che lui deve giocare obbligatoriamente quasi con bojack le str quindi con la forma normale o evo linka comunque mediamente bene come altri partner può avere carino garlic però scendiamo già tre link idem cooler str o magari anche tarles lr quelle seti anni a poi ti intendo le lr o metà alcune lr fisico però perdiamo già molti odio molti in due link però perdiamo alcuni dei link principali che arrivano a dare anche un bel aumento di stats non è chissà quanto scarso per carità solo che dopo l'uscita di determinati personaggi determinati esa si speravano qualcosa in più e infatti se devo essere sincero tremo all'idea di cosa sia goku super center lr che ci sta facendo attendere così tanto brutta e tosta 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 potrebbe essere molto peggio di quanto immaginiamo dov'è che il pc però può essere utile in realtà avendo più o meno comunque più o meno dei buoni link con diverse unit che andrete a giocare potrebbe essere interessante come supporter or manipulator però anche la andiamo ad aumentare pesantemente la casualità perché purtroppo lui attiva la sua passiva in inizio turno voi avete modo di controllare quanti hp avete naturalmente però è naturale che non avete sicurezza al cento per cento se vi lancia la special su pg sbagliato avete molti pochi hp che poi sia mentre la sua difesa potete usare un oggetto ma in determinate fight come ben sapete l'oggetto usato in turno sbagliato è un problema anche abbastanza grande quindi a mio avviso è una unit che migliora ma non ne guadagna più di tanto in giocabilità nonostante possa arrivare a dei valori perlomeno interessanti con questo in seguito vi avviso che tornerò su twitch a breve in cui andremo entrambi in quel di drang lake a ripetere l'inferno che ho vissuto cinque anni fa per portarvi la platinum run di dark soul 2 che ci faremo tutte in live in non so quanto tempo domani avrete sperando che ci riesca ma dovrei uscirci l'analisi della vecchia della nuova lr carnival di go super saiyan e poi dopo domani inizieremo con i festeggiamenti di super hero quindi auguro a voi un in bocca al lupo col pull e ci vediamo al prossimo video